Mary Jane ASMR Ciao ragazzi, come state? Spero tutto 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 molto bene Allora, oggi vi porto un tema nuovo su questo canale Ma non nuovo a livello di ASMR Perché è stato già visto all'estero In Italia effettivamente non ho visto tantissimo Però all'estero ho visto veramente tanto Sto portando oggi un nuovo tipo di ASMR che io ancora non ho portato Sto parlando del Face Adjusting O Face Adjustment Spero vi avranno detto bene Perdonatemi se sbaglio E in che cosa consiste Non ve lo voglio spiegare ragazzi Alcuni di voi lo sapranno già Perché avranno visto e stravisto questo tipo di video Altri invece magari avranno intuito forse adesso di che cosa sto parlando O magari non hanno ancora Ciao Ciao Ma da dove vieni? Dove sei stato? Ma dove sei stato? Ti sei perso? Ti sei perso per il bosco? E ti sei ridotto così? Sei tutto sporco? Mi pare proprio Mi pare proprio che tu non sia nelle condizioni ideali di andare in giro Ma quanto tempo sei restato fuori? Ti sei riperso? Addirittura hai dovuto costruire una capanna perché hai permontato lì? Mi dispiace tantissimo di questa cosa Ma meno male adesso che hai ritrovato la strada Sì 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 Hai fatto bene guarda Hai seguito le luci e hai trovato la strada per la città Hai fatto bene Hai incontrato la persona giusta sul tuo cammino eh Ma io ti vedo a parte che sei molto sporco Vedo che hai il lobo dell'orecchio Troppo grande E te lo devo rimpicciolire E te lo devo rimpicciolire Anche di qua Com'è? Com'è possibile? Il naso Il naso ti cade sul labbro? Sì guarda guarda Il naso ti cade sul labbro Ma sì guardati allo specchio Ti cade sul labbro Ti cade sul labbro Aspetta che gli diamo una tirata Una tirata su al naso Una tirata su al naso Una tirata su Sì no? Stia diventando riconoscibile Le labbra Le labbra Così Sono tutte storte Vediamo di riadrezzare Di riadrezzare le labbra Per attrezzare le labbra Vediamo 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 Ok Aprile Aprire Ma com'è? Ma dov'è? Stringere Ok Questo, questo, questo Lo devo aprire aprire, aprire un po', ok si manca la guancia la guancia da questo lato, qua, si è più gonfio da qua è meglio, si stai meglio di qua da questo lato invece stai più gonfio dobbiamo massaggiare così, proviamo a schiacciare girati, girati, girati così, mettiti così ma com'è possibile? girati un altro po'? ok, girati massaggio un po' sotto al viso, così capisco meglio adesso credo che le guancia vadano meglio l'altro orecchio l'altro orecchio l'altro orecchio com'è che è finito qui sul collo ti è finito qui sul collo l'altro orecchio si si si, guarda il lobo da qui è andato fino a qui ah mannaggia mi dispiace vabbè vabbè ma non ti preoccupare adesso ti sistemo io eh lo tiro su lo tiro su lo tiro su ecco stai fermo così qui l'altro orecchio ok lo sistemo uguale all'altro orecchio è arrivato completamente scomposto qui anche i capelli ti sono cresciuti tipo tarda dobbiamo sistemare i capelli si non ti preoccupare ora me la vedo io si si no ma non è possibile questi capelli stai tutto sconvolto vedi è scena terra no vabbè non ti preoccupare perché da qua adesso uscirà il nuovo ho troppo lunghi so sti capelli eh ma so troppo troppo lunghi ma mi si è perso proprio per parecchi giorni vedo sì siccome andiamo di fretta lo shampoo non lo puoi fare adesso però quando andrai a casa mi raccomando farlo ti spruzzo un po' d'acqua adesso ok 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 fermo ancora un altro tocco mannaggia 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 veramente ma com'è possibile una cosa del genere sei arrivato tutto così ok è un po' togliore che c'è tutti questi i capelli storti io cerco io cerco di andare dritto ok ok questo frangio qui questo frangio qui non è Sì. ma certo che eri ridotto da un male ti ho dovuto ricomporre praticamente sì, nel senso letterale del termine poi adesso c'è tutti i capelli qui però vabbè è il problema minore ok 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 vuol dovere, vuol dovere, vuol dovere va mi dare? un altro ok adesso sta più dritto adesso con questo pelucetto vado a rimuovere i capelli ecco tutti i capelli in più ma come hai fatto? ma come hai fatto? vabbè io adesso vedo che ti ho dato una giustatina alle orecchie, agli occhi alle labbra, al naso ma poi oh no 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 le sopracciglia mi aiuterò con questa pinzetta a risollevarle le sopracciglia le sopracciglia tiro su la palpebra, vedi faccio così ok? te le tiro su sono tutte pazze guarda guarda vedi andrò a fare questo sono arrivate qui sulle palpebre non riesci manca ad aprire le palpebre non riesci ad aprirle gli occhi ok? tiriamo su tiro 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 ok ok di qua ci vedi meglio adesso? ecco, lo sapevo che poi mi sembra che questa macchia qui non riesci che non riesci è un belio di macchia 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 quando vai a casa fatti una bella doccia vedrai che ti sentirai molto meglio mi dispiace che tu ti sia perso per tutto questo tempo del bosco però adesso sei riconoscibilissimo perché ti ho sistemato ti ho messo a posto ok? ti raccomando non perderti più ciao ciao a presto a presto